Sofia Della Vedova nasce a Morbegno il 24 agosto 1988. Ha frequentato l'istituto Pio XII di Sondrio e si è poi laureata in scienze motorie all'Università degli Studi di Milano. Sportiva fin da piccola, Sofia ha praticato diverse discipline, tra cui il wushu, lo sci e ogni tanto una bella nuotata in piscina. Purtroppo nel 2017 incorre in un grave incidente, ma questo non la ferma e decide di tornare sul campo sportivo più forte di prima. Durante la riabilitazione si avvicina al mondo della scherma e dopo soli sette mesi dall'incidente entra nella squadra paraolimpica. Nel maggio 2018 vince la medaglia di bronzo ai campionati italiani, facendo guadagnare alla squadra bergamasca il settimo posto. Una delle sue passioni è il film Kung Fu Panda e adora sfrecciare con una splendida BMW Rosso Fuoco. Amma passare il suo tempo libero in diversi luoghi, come la montagna e il mare. Le piace molto cambiare stile, soprattutto dei capelli.